Ha da poco compiuto 90 anni, di cui 70 spese nella scenografia e nella regia teatrale in tutto il mondo. Su Pierluigi Pizzi, oggi media nazionale e locali, punto nei riflettori. È lui, che doveva essere il nuovo presidente del teatro comunale Claudio Abaddo di Ferrara, al posto di Mario Resca, che ha lasciato la guida della fondazione per divergenze con il sindaco, al quale Resca ha rimesso con l'intero CDA la nomina e quindi il compito di ripartire da zero. Ma oggi lo scenario sembra di nuovo mutato e soprattutto ancora incerto. La scelta di Pierluigi Pizzi, figura autorevolissima nel mondo della cultura italiana e internazionale, sarebbe stata ancora di Vittorio Sgarbi, presidente di Ferrara Arte e grande orchestratore delle nomine al vertice delle principali istituzioni culturali ferraresi. Anche la nomina di Mario Resca aveva avuto il suo imprinting, come quella di Monio Vadia e quella di Francesco Micheli, presidente da poco più di un anno dell'associazione Ferrara Musica. Ma sembra che ancora non sia venuto il momento, per il teatro comunale di Ferrara, di una condivisione pacifica delle nomine e soprattutto del rilancio dell'attività teatrale, perché proprio sul nome di Pizzi sia Sgarbi che l'assessore Guglinelli, secondo la stampa, stanno facendo in qualche modo dietro a fronte. Mentre si affaccia fra i papabili il nome di Michele Placido, anche lui figura di grande prestigio, anche se con caratteristiche molte diverse da quelle di Pizzi, che oggi, in un'intervista pubblicata dal Domenicale del Sole 24 Ore, racconta alcuni retroscena della vicenda. Non ci sono, dice, impedimenti legati alla minorità. Il maestro Pizzi sta infatti per cominciare le prove di Orfeo Ravenna, ma divergenze sulle modalità di interpretare la carica, che per lui dovrebbe essere del presidente operativo, non onorario, una carica che invece sembra debbandare, secondo i media, a Gianni Letta. Ma soprattutto una carica che dovrebbe riconoscergli piena autonomia artistica, per la musica e per la danza, scelte culturali autonome, è un vero progetto originale che prenderebbe le mosse, secondo il maestro Pizzi, proprio dalle grandi direzioni di Claudio Abbado. Più direttore artistico, dunque, o almeno anche direttore artistico, come avrebbe fatto intendere chiaramente l'assessore Guglinelli in vista da lui a Venezia. Ed ecco quindi, dopo il sì a Sgarbi, che Pizzi definisce strappato e approssimativo, ancora senza nessun accordo sulle condizioni, il no o il nì a Guglinelli, che Sgarbi avrebbe preso davvero male, e secondo Pizzi, ingiustamente. Che succederà adesso? Per il maestro Pizzi, la decisione dipenderà dall'assessore Guglinelli, o meglio, dal comune di Ferrara, socio unico della fondazione. Per lui, che francamente se lo può permettere, il valore massimo resta la sua libertà di scelte, che non possono essere condizionate, aggiunge, in nessun caso.